guerrieri buonasera a tutti e benvenuti questo nuovo video è domenica sto aspettando il calasole per alzare il drone sono appena partito da sant'anna pelago in direzione san pellegrino un'alpe giornata veramente fantastica vedo un po di nuvole all'orizzonte speriamo di avere uno spiraglio di sereno al calasole la neve è sopra i 1250 metri sul livello del mare vi ricordo a tutti di lasciarmi un like a chi gli fa piacere che non costa niente iscriversi al canale youtube e attivare la campanella così non vi perdete i prossimi video andiamo al confine tra toscana e emilia romagna guerrieri abbiamo la batteria del drone pronta al 100 per cento quindi abbiamo anche una discreta autonomia di volo oltre 25 minuti per aria possiamo stare direzione san pellegrino in alpe siamo allo svincolo con pian della gotti continuiamo dai sono sei gradi a mille e cinquecento metri sul livello del mare incredibile siamo quasi sul san pellegrino andiamo a salutare paolo è ancora presto a tutti i nostri il sole ancora alto abbiamo tempo siamo in orario poche volte arrivo puntuale dai però a volte per il drone questo è altro guerrieri io volevo nulla o niente con una niente la consentiamo poi dicono che io non c'è nulla non c'è niente guardate qua giovane giovane qui non vuole niente eccono qui guardate qua giovane questo niente sono san pellegrino pago il tramonto eh ragazzi vi porto nella terrazza di paolo guardate che spettacolo se venite da paolo san pellegrino in alpe fatevi vedere questa terrazza che è qualcosa di alluscinato guardate che spettacolo guardate che spettacolo guardate che spettacolo guardate che spettacolo andiamo a alzare il drone qua sotto museo del san pellegrino in alpe la chiesa guardate che spettacolo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.